Una vita dura e segnata dal dolore, ma alleviato e condiviso con un amico speciale, Papa Bergoglio. Si sono svolti oggi nella chiesa del Sacro Cuore a Soria di Pesaro i funerali di Rosalba Tomassini, morta all'età di 85 anni. Era la madre di Andrea Ferri, gestore di pompe di benzina, ucciso in via Paternia Pesaro il 4 giugno del 2013 con sette colpi di pistola per mano di un dipendente della sua ditta e il suo complice. Dopo il brutale omicidio Papa Francesco aveva preso a cuore la famiglia, cominciando a chiamare mamma Rosalba quasi una volta al mese. In otto anni sono state 78 in tutto le telefonate scambiate con il pontefice. Tra i due si era instaurato un rapporto di amicizia e i colloqui cominciavano con un buongiorno Rosalba come sta, segno di un rapporto ormai confidenziale. Una donna Rosalba con una forza indescrivibile e con alle spalle una vita piena di dolore e lacrime come ha scritto ieri su Facebook il figlio Michele annunciando la morte della madre. Prima la perdita del figlio Gianluca, soli dieci giorni dalla nascita, un tumore sconfitto, l'incidente del figlio Michele, la morte dolorosa del marito e delle due sorelle, quella del figlio Andrea, poi l'enorme sofferenza passata con il tumore che ha portato via l'amato figlio Paolo. Ieri a causa di una malattia si è spenta anche Rosalba. Sei salita in cielo per ritrovare tutti i tuoi cari, ha scritto Michele. Mia mamma ci lascia l'immagine di una persona con un grande cuore. Mia mamma proprio è stata una persona con un grandissimo cuore, è sempre stata vicino a tutti quanti, non c'è mai stato un litigio fra noi, quindi anche durante tutte le tragedie che abbiamo passato comunque c'è sempre stata accanto e poi dopo purtroppo il dolore l'ha consumata. Il telefono in casa Ferri è squillato anche ieri. Dall'altro capo della cornetta c'era Papa Francesco che quando ha saputo della scomparsa di Rosalba si è commosso. Ieri mi ha chiamato Papa Francesco alle 6 e un quarto appena saputo della notizia e mi ha ringraziato per questa testimonianza d'amore perché siamo sempre stati una famiglia unita. Papa Francesco è stato un angelo, starle sempre accanto, ogni mese telefonava e le dava un po' di conforto e quindi abbiamo avuto questo angelo che ci è stato accanto.